La Fortitudo si appresta a vivere il suo debutto casalingo di stagione per la seconda volta negli ultimi tre anni al 105 Stadium di Rimini, auspicando, a differenza dell'esperienza precedente, che il doppio viaggio a cui è stata costretta dal post-gara 4 dello scorso anno con Trieste non costringa questa volta a regalare punti agli avversari. In settimana si è dibattuto sullo stato fisico della Consulting Invest in seguito al vincente Lebuto di Udine che ha certificato, quanto meno, come questa squadra anche su campi complessi e in piena emergenza possa essere capace di sopperire alle avversità attraverso l'innegabile talento e la leadership con cui è stata plasmata. Sarebbe meglio non doversi abituare a tale esigenza e invece anche negli ultimi giorni Matteo Boniccioli è stato costretto a fare i conti con sedute di allenamento a ranghi ridotti e che non hanno consentito al timoniere bianco-blu di preparare il match di domenica contro Iesi come avrebbe voluto. Fermi Cinciarini e Gandini per le solite noie alla schiena, l'amichevole di metà settimana contro Cento ha giocato un brutto scherzo anche a Matteo Chillo che rischia seriamente di saltare l'appuntamento contro gli insidiosi marchigiani che al debutto hanno battuto Verona per un affaticamento muscolare che necessiterà di qualche giorno di riposo. E considerando che anche domenica mancherà amici per scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, il bilancio non è proprio dei più idilliaci. La fortitudo però non commetterà neanche stavolta l'errore di piangersi addosso anche perché la Iesi di coach Cagnazzo e della coppia di statunitensi formata da Hesbrook e Brown non glielo consentirebbe. L'impressione al netto di una quotidianità che mantiene come priorità quella di muovere la classifica è che ci vorrà ancora qualche settimana prima che la fortitudo possa entrare a regime.